Fondazione Teodora Onlus dal 1995 porta un sostegno concreto ai bambini in ospedale e alle loro famiglie. Noi siamo presenti per i bimbi, la parte sana del bimbo. I bimbi nell'ospedale sono bimbi, loro vogliono giocare, vogliono avere un momento di leggerezza. Oggi i dottor Sogni sono 30, lavorano in tutta Italia e ogni anno visitano individualmente oltre 35.000 bambini ricoverati nei reparti di alta complessità dei nostri ospedali. Le nostre visite sono per offrire momenti di esperientezza, pensieratezza. Colori, evasione, immaginazione. Difficile di stare tutto il giorno all'ospedale. E allora noi portiamo il mondo all'interno dell'ospedale e un pochino portiamo il mondo all'esterno con noi, così. Mi complimento perché è un'iniziativa veramente generosa e bella dal punto di vista morale ed etico. Questa energia positiva, io penso, è importante per tutti nell'ospedale, anche tutto il personale. Il nostro lavoro è reso migliore anche dalla vostra vicinanza, dal vostro aiuto e da queste professioni storiche. Per i collaboratori che ci aiutano a rendere il ricovero meno traumatico, meno pesante per il bambino e anche per la famiglia, per noi è un aiuto importante e un aiuto a cui noi teniamo molto. Volevo ringraziare la Fondazione Teodora perché tutte le volte che vengono a fare una visita portano un sorriso ai nostri bambini e ci aiutano a fare delle procedure, delle cose che dobbiamo fare per forza su questi bambini in un modo un pochino più tranquillo. La vita dei bimbi è un mondo di immaginazione e siamo qui per questo. Grazie di cuore a tutti voi, continuate a seguirci e a starci accanto. Grazie a tutti.